Ehi bimbo tu vai a via a questa intervista e io te promuovo vice-direttore sennò per te so dolore in manca! Comprensi l'importanza! Si eccezionale! Soprita via il cammino! Soprita via il cammino! Soprita via il cammino! Soprita! Soprita via! Soprita via! Soprita via! Nonno mio diceva sempre! Se prima vuoi arrivà l'autista non devi scoccià! Capito! Grazie scusi! Si! 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 Ecco io non se faccio! Devo passare! Devo vederlo! Niente c'è da vedere! Ma io sono un segugio! Sono un cane lupo! Lupo sei! Allora! Allora! Aiuto! Stompa! Io leggo solo il giornalino! Non scherzi ma lei l'ha visto! Non mi sento tanto bene! Mi faccio i fatti miei! Quinto piano interno 9! Quinto piano interno 9! Non scherzi! E' proprio lei ha un'imitazione! Che me la dà l'intervista! Certo! Ed oltre all'intervista ho per lei qualcosa di eccezionale che andrà sulla bocca di tutti! E me la dà in esclusiva! Wonderful! Ah ah ah! Partite via tutto bimbi! Rifamo la prima pagina! Edizione straordinaria! I cioccolatini sono diventati grandi! Ok boy! Ma come hai fatto a saperlo? Veramente me l'ha detto lui! Eh si! I cioccolatini festival sono così buoni che Alemagna li ha fatti più grandi! Festival sono ripieni! In tanti gusti diversi! Uno per uno sono cioccolatini! Tutti insieme sono un gesto di simpatia! Festival Alemagna! Allemagna! Allemagna! Grazie.